Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato Tg. Parliamo del Tribunale di Prato, ancora una volta del Tribunale di Prato, perché il Ministero ha inviato in Toscana 57 nuovi cancellieri e soltanto 3 sono destinati al Palazzo di Giustizia Pratese. Per la CGL questo è offensivo. Sentiamo Nadia Tarantino. Dei 57 assistenti giudiziari destinati alla Toscana dopo il recente maxi concorso del Ministero della Giustizia, il primo da 20 anni a questa parte, solo 3 sono stati assegnati al Tribunale di Prato. Un numero così misero rispetto alla storica carenza di organico e rispetto alla mole di lavoro che la CGL parla di assegnazione quasi offensiva e lesiva. Nonostante siamo il Tribunale del distretto toscano con il maggior numero di scopertura in pianta organica, ci troviamo a essere gli ultimi come numero di persone che arriveranno a supporto. Giusto per fare un esempio, al Tribunale di Pisa con una scopertura del 13% arriveranno 8 unità di personale nuove. Noi che abbiamo il 35% di scopertura ne arrivano 3. Una situazione surreale quella del Tribunale di Prato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha inserito nel novero delle sedi disagiate che di fatto ha comportato un aumento del numero dei giudici ma che continua a essere sguarnito di personale. Il 19esimo in Italia e primo in Toscana per sopravvenienza di processi civili, il Tribunale è stato definito dal Vice Presidente del CSM situazione eccezionale, tanto da richiedere una forte iniziativa di sollecitazione per risolvere i problemi relativi alla carenza di mezzi e di persone. Era marzo 2017. La condizione è oggi come era allora. Per risolvere un problema ci vogliono tre caratteristiche, ci vuole interesse, capacità e coraggio. Evidentemente sul territorio di Prato per quanto riguarda il problema della carenza di personale amministrativo all'interno del Tribunale manca almeno una di queste cose. A parità di stipendio a Prato si lavora il doppio che negli altri tribunali. Per riportare la situazione in equilibrio e dunque eliminare le disparità, la CGL ha calcolato che al Tribunale di Prato sarebbero dovuti arrivare 19 dei 57 nuovi cancellieri assunti dal Ministero della Giustizia. Siamo formalmente in assenza di un Presidente che si insedierà soltanto nei prossimi giorni al quale domandiamo fin d'ora il fatto che possa impegnarsi affinché venga mosso un interpello al Ministero con la finalità di modificare questi numeri perché davvero sono lesivi della dignità di questa città. Risulta evidente che poi noi agiremo le leve proprio del sindacato, ovvero lo stato di agitazione, il confronto e prefettura e laddove è possibile e necessario anche una giornata di sciopero. Completamente ubriaco, ha minacciato la moglie, il figlio e la sorella e dopo essere stato allontanato dalla casa di famiglia dalla polizia vi ha fatto ritorno continuando con il suo comportamento violento. Un romeno di 45 anni è stato denunciato per minacce, è successo nella tarda serata di ieri in Via Siena. La polizia è stata chiamata per una violente lite in famiglia e è arrivata sul posto, ha trovato l'uomo in evidente stato di agitazione e debrezza che se la stava prendendo con moglie, figli e sorella. Gli agenti sono riusciti a riportarlo alla ragione e il 45enne ha accettato di trascorrere la notte lontano da casa. Una volta concluso l'intervento della polizia è tornato alla carica, la questura è stata di nuovo chiamata e a questo punto è scattata la denuncia. Andiamo alla scuola dell'infanzia Galilei perché i lavori per la sistemazione antincendio sono durati più del dovuto e ancora non sono terminati per cui i bambini, un centinaio, sono stati smistati in altre sedi ed è polemica. Sentiamo Alessandra Grati. Lunedì 8 gennaio 75 bambini che frequentano la scuola dell'infanzia Galilei avranno una nuova sede. 50 sono stati trasferiti all'ex asilo Nido di Santa Lucia, chiuso nel 2015 e ristrutturato per l'occasione, e 25 a Malisetti e alle Puddu dove sono state ricavate due aule. Un cambiamento dettato dalle necessità di iniziare i lavori per l'adeguamento alle norme antincendio che avrebbe dovuto invece concludersi entro il 31 dicembre del 2017. Noi abbiamo saputo all'improvviso di questi lavori, lavori grossi che inizialmente prevedevano la chiusura fino a settembre della scuola e quindi ci sembrava doveroso anche all'atto dell'iscrizione a settembre di essere informati di questi lavori. Invece c'è stato comunicato solo pochi giorni fa che l'asilo sarà smembrato in più parti e ci sembra veramente una grossa mancanza di rispetto nei confronti dei genitori e dei bambini tutti perché si creano veramente grossi disagi alle famiglie e ai bambini che comunque si ritrovano in strutture sconosciute e anche le maestre stesse non erano informate della notizia. Speriamo che i locali siano a posto ma non sappiamo nemmeno, visti i tempi, fino al 29 di dicembre non si sapeva ancora del trasloco se abbiano fatto in tempo a fare questo trasloco nei tempi giusti. L'assessore all'istruzione pubblica Maria Grazia Ciambellotti ribatte le accuse delle famiglie. Abbiamo esaudito tutte le richieste dal posto al prescuola fino al servizio di trasporto e potenziato l'organico del personale ATA per aiutare insegnanti e bambini a prendere confidenza con le nuove sedi. I lavori si concluderanno al massimo entro le vacanze di Pasqua e non potevano essere fatti in altri momenti. Investito da un'auto mentre attraversava la strada, la vittima è un uomo di 54 anni trasportato all'ospedale di Prato in codice rosso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21.30 di ieri in via delle Fonti. Sul posto, oltre a un'ambulanza inviata dal 118, una pattuglia della Municipale per i rilievi. Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo stava attraversando a piedi la strada quando è stato centrato dall'auto condotta da un sessantenne. Ulteriori verifiche sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le condizioni del pedone, che una volta arrivato in ospedale è stato sottoposto alle prime cure, sono state giudicate un po' meno gravi di quanto apparso in un primo momento. Politica, elezioni, rebus per le candidature all'interno del PD alla possibile candidatura locale del segretario provinciale Bosi. Si potrebbe contrapporre un nome di livello nazionale. Il segretario Bosi che oggi, proprio oggi, ha lanciato due campagne comunicative per il territorio per far conoscere quanto fatto dalla giunta Biffoni in questi anni. Il segretario provinciale del PD, Gabriele Bosi, non nega l'ipotesi e soprattutto il desiderio di una sua candidatura alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale di Prato per le elezioni politiche del 4 marzo. Il numero uno dei democratici pratesi si nasconde dietro le procedure formali e il confronto con il livello nazionale del partito, ma dietro la frase siamo tutti disponibili c'è più di una semplice idea. Siamo tutti quanti, secondo me, disponibili per un impegno di questo tipo, però l'importante è fare in modo che il candidato sia trainante e possa portare consenso. Su questo bisogna fare il ragionamento, quindi le singolarità, secondo me, vengono dopo. Considerato un orfiniano, Bosi dovrà confrontarsi con le esigenze nazionali. I posti sicuri, infatti, sono pochi e i nomi da piazzare tanti. Non è affatto escluso, quindi, che Roma imponga le proprie scelte. Il PD deve fare bene i suoi conti e capire se il collegio pratese è sicuro e nel caso decidere se sia più efficace un nome locale o nazionale. Potrebbe arrivare un candidato da Roma? Anche questo è possibile, però su questo vorremmo confrontarci bene e chiarire il punto di vista nostro insieme con i nostri dirigenti romani. Intanto il segretario pratese si mette avanti con la campagna elettorale e lancia due iniziative su tutto il territorio per raccontare nel dettaglio quanto fatto dalla giunta Biffoni. La prima campagna si chiama L'Opera investimenti per quartieri e frazioni del comune di Prato ed è la più ambiziosa di lungo periodo perché in sostanza è un viaggio in tutte le frazioni del territorio. Si comincia a fine mese con Tobbiana. La seconda campagna si concentrerà invece su sanità e sociale e sarà scandita da cinque appuntamenti in città, uno per ex circoscrizione. Il primo incontro si terrà mercoledì prossimo alle 21 al Circolo Arci della Querce. Per noi è importante a un anno e mezzo di distanza dall'appuntamento elettorale andare frazione per frazione, quartiere per quartiere e raccontare le cose fatte in questi anni ma anche ascoltare, sentire se ci sono esigenze a corrispondere e sfruttare questo fine mandato per dare tutte le risposte che servono. E allora ieri Prato è andata ad Acqua Santa Terme per inaugurare le sei casette che sono state comprate grazie alla generosità dei pratesi per le popolazioni terremotate. Sentiamo. A poco meno di un anno dall'ultimo terremoto il territorio di Acqua Santa Terme cerca di tornare alla normalità anche grazie alla solidarietà dei pratesi. Ieri i sindaci di Prato, di Carmignano e di Poggio a Caiano, Matteo Biffoni, Edoardo Prestanti e Marco Martini e l'assessore alla protezione civile di Montemurlo, Rossella De Masi, sono andati personalmente ad Acqua Santa per inaugurare le sei casette acquistate grazie ai fondi raccolti dal Comitato Pro Emergenza Città di Prato. Ad Acqua Santa anche il Presidente del Comitato Giulio Bardazzi e il responsabile della protezione civile di Prato Sergio Brachi. È oggettivamente un gesto che ci fa piacere fare, ma non per, come voglio, protagonismo, ma perché veramente vogliamo dare una mano a questa comunità, vogliamo che si senta la vicinanza di Prato, la nostra realtà, che ragazzi, nessuno di noi può essere esenti da situazioni del genere, si può considerare salvaguardia di tutti. E' bene che in questi momenti ci si consideri tutti vicini e si faccia possibile per dare risposte vere. Grazie alle donazioni dei Pratesi, il Comitato ha raccolto oltre 120.000 euro, dei quali 99.600 utilizzati per l'acquisto delle case di legno. La Val di Bisenzio ha acquistato e donato anche un scuolabus. I moduli serviranno per dare servizi alla comunità e creare luoghi d'incontro. In particolare, quattro casette saranno sistemate a Quinto Decimo, Cantano, San Martino e Fava Lanciata. Perché prima avevano dei circoli o il piccolo bar dove tutti si ritrovavano e adesso purtroppo sono tutti disorientati ed è anche un modo per far sì che mano a mano che noi restringiamo la zona rossa, cioè la zona in cui non si può accedere, e alcune persone tornano in quelle poche case agibili, abbiano un punto di ritrovo per poter stare insieme lì e magari ricreare quel senso di comunità che ormai da un anno e mezzo è venuta a mancare. Le altre due sono state montate ad Acqua Santa, una per ospitare gli uffici comunali, dato che la sede del Comune è inagibile, l'altra per la Proloco. Domani Befana, festa per grandi e piccini, vediamo le iniziative principali tra sacro e profano. Alessandra Grati. Tra sacro e profano sono tanti gli appuntamenti in calendario per il 6 di gennaio. La Chiesa di Prato festeggia il giorno dell'Epifania, alle 15.30 in Duomo, con la Messa dei Popoli, preseduta dal Vescovo Franco Agostinelli. La celebrazione avrà un carattere internazionale multilingua, animate dai canti e dalle preghiere delle comunità straniere. La prima lettura sarà in inglese e la seconda in cinese, mentre il Vangelo sarà proclamato in italiano. Saranno presenti le comunità nigeriane, cinesi, rumene, filippine, pakistane, polacche e ucraine. Al termine della Messa dei Popoli, la festa si sposta sul Sagrato del Duomo, con la proclamazione dei primi tre classificati nel concorso diocesano dei presepi delle parrocchie e l'estrazione della lotteria di Natale. Per quanto riguarda la Befana, protagonisti indiscussi sono i vigili del fuoco. Alle 10 in Piazza dell'Uomo è prevista la consueta esposizione dei mezzi. Alle 13 la Befana arriverà al reparto di pediatria de Santo Stefano per distribuire donne ai bambini ricoverati. E alle 15 torna in Piazza del Duomo per intrattenere i più piccoli e distribuire materiale da disegno. Per poi alle 17.30 scendere dal campanile del Duomo a bordo della scopa montata su una teleferica. La Befana farà capolina anche a Vaiano, Montemurlo e al Museo di Artimino. Notizie di Prato Tg si ferma qui. Vi ringrazio per averci seguito. Buona serata e buona giornata di festa.